ma bocciolo bocciolissimo amici da Luca Giurato niente poco di meno che vi saluto a tutti amici d'Italia 1 carissimi vi mando un bacio a me dicono dalla regia che non siamo su Italia 1 ma siamo su Rai 1 chiedo schiuma chiedo schiuma saluto anche la bellissima Chiara no non sono Chiara ah mi dicono che ti chiami Sara come ti chiami scusami no neanche Sara Francesca ok Alessia carissima bellissima Alessia andiamo avanti con la puntata un gioco a quiz bellissimo amici si parlerà di tantissimi personaggi famosi e si vinceranno ricchissimi premi se voi risponderete da casa a questa domanda William Shakespeare era un drammaturco o un drammaturgo se risponderete esattamente a questa domanda Alessia come ti chiami Francesca va bene la chiamiamo bene Francesca vi regalerà un iPhone 4S dove 4S sta per 4 stagioni amici bellissimi carissimi ma pensate un po' una notizia dell'ultima ora il ministro dei trasporti cinese Teng Nufur Gonshin si è buttato dal quarto piano lasciando moglie e figlia e finestra aperta amici possiamo andare avanti con la puntata grazie a tutti